Ok, dunque, prima di continuare, diciamo così, sulla parte di JavaFX, Java, sullo sviluppo di nuove tecniche di programmazione, voglio fare una breve parentesi su quello che è lo strumento di lavoro che useremo sempre durante il corso, ma che spero continuerete a usare anche, diciamo così, al di là del corso stesso. Che è lo strumento per poter lavorare in modo collaborativo con del codice e condividere essenzialmente il codice stesso. Allora, finora, mi sarete anche resi conto, chi aveva magari delle difficoltà, è stato molto complesso per noi, difficile, non sempre siamo riusciti a aiutarvi a dire, guarda che il tuo errore è in quel punto, eccetera, perché non avevamo la possibilità di vedere completamente il vostro codice. Quindi magari dava un errore in un punto, il problema era un altro, quindi bisogna andare, come sempre, nel fase di debugging, a scavare un pochino ovunque per cercare di capire, oppure dare anche noi stessi la probabilità di provare il codice per vedere che cosa succede. Questo chiaramente non era molto semplice, perché mi chiedo di mandarmi uno zip intero con tutto il progetto Eclipse, diventano delle cose, diciamo così, anche difficilmente gestibili. Ecco, oggi impariamo come gestire questa parte, quindi come collaborare a distanza con più persone diverse sullo stesso progetto. E lo impariamo nel contesto di questo standard che si chiama Git e sul sito GitHub, che è uno dei vari siti che supportano Git, di cui vi racconto subito. Di fatto l'idea qual è? L'idea è che quando io sviluppo del software, la parte di sviluppo non è un'attività monolitica che faccio in un momento, mi concentro due ore e faccio un software e questo è finito. No, è un'attività che in ogni caso continua nel tempo. Quindi vado avanti, sviluppo varie parti, riprendo una parte precedente, magari prendo una parte che era sbagliata e la correggo. Quest'altra parte era solamente una prova, quindi magari facciamo un'altra versione in cui proviamo cosa succederebbe se implementassi questa cosa in un modo diverso. E quindi abbiamo un processo da gestire, un processo di sviluppo in cui ci sono via via diverse versioni nel nostro software. E quindi ci sono dei sistemi che ci aiutano a gestire queste versioni. Non posso pensare di chiamare delle cartelle tipo versione 1, versione martedì, versione 2, l'ultima, l'ultimissima davvero, o chissà come chiamate le vostre cartelle quando lavorate sui vostri file. Ho bisogno di un sistema un pochino più sistematico. E questo è un problema che c'è da sempre, da quando ho visto il software. E via via si sono trovati gli strumenti via via sempre più sofisticati, partendo da soluzioni locali, quindi che funzionano solo sul mio computer, a soluzioni che effettivamente siano distribuite in rete e quindi possono permettere a persone diverse di lavorare insieme, anche se sono a distanza, anche se questo purtroppo ci ricorda qualcosa di questi giorni. Quindi, quali sono i meccanismi di funzionamento di queste cose? Il concetto base è quello di, diamo un po' di definizioni e poi le colleghiamo tra di loro, per poi portarle sul pratico del nostro modo di lavorare. Un repository, che cos'è? È una sorta di contenitore, un database, un bidone, in cui memorizziamo tutto, tutto il lavoro. Un repository contiene tutte le versioni di tutti i file che ho creato. Magari è un progetto su cui lavoro da mesi e questo file l'ho modificato cento volte. Ecco, nel repository ci sono tutte e cento le versioni di questo file, compresi anche quelle cancellate, compresi anche quelli rinominati, eccetera, eccetera. Quindi, in ogni momento, c'è la storia intera di tutto il progetto salvata all'interno di questo repository. E quindi, in qualunque momento, io posso, volendo, andare indietro nel tempo e dire, ma un attimo, io avevo questa versione che mi ricordo che il 3 maggio funzionava, andiamo a vedere cosa avevo scritto perché adesso non funziona più, o cose di questo genere. Un repository, quindi una sorta, un contenitore, che controlla il sistema di versionamento, non controllo io direttamente, e in automatico lui si ricorda tutte queste versioni. Allora, già se voglio collaborare con più persone, basta che io trovi un meccanismo per condividere questo repository con i miei colleghi e, in qualche modo, se siamo più persone che riescono a lavorare sullo stesso repository, stiamo condividendo la storia dell'intero progetto. Ovviamente, il repository contiene la storia, quindi tutto fino a ieri o fino a 5 minuti fa, e che è diverso dai file su cui sto lavorando. Quindi i file su cui sto lavorando in questo momento, aperto in Eclipse, non sono ancora congelati nel repository per sempre, perché magari ci sto scrivendo, non è che ogni singola lettera che scrivo deve finire nel repository. Quando salvo un file, quando l'ho concluso, allora lo salvo nel repository. E quindi esiste una coppia di lavoro del progetto. Quindi voi immaginate di avere il repository che ha uno sopra l'altro, tutte le varie versioni, e queste sono storiche, è storia. E poi avete una versione in più, in più uno, che è la versione su cui state lavorando adesso, che è la cosiddetta copia di lavoro, la working copy. Chiaramente questa versione in più, quando lo decidete, diventerà parte della storia. Ma lo decidete voi con un'operazione che vediamo tra un secondo, si chiama operazione di commit. In ogni momento, in un repository, ho una versione, che è la versione di lavoro, che è quella che vedo nell'ambiente di sviluppo, quella su cui posso scrivere, quella che quando faccio run parte quella, perché quelli sono i file che sono salvati sul mio computer, nello spazio di lavoro. Quindi anche all'interno del progetto di Eclipse, avrete una cartella con tutti i vostri file, e poi una cartella a parte, che si chiama .git, che contiene il repository. Ma Eclipse continua a farvi vedere i soliti file, le solite cartelle con i soliti file Java. E questa è la copia di lavoro. Questa cartella git è una cartella nascosta, nella quale lui si mantiene, si conserva il repository con le versioni passate. Ovviamente c'è modo di prendere la versione attuale, consolidarla nella storia, oppure prendere una versione precedente, perché voglio vedere come era fatta, ed estrarla in modo che io possa vedere i file. Finché i file sono dentro il repository, non li posso usare, li posso solo consultare, ma per usarli e vederli devo portarli in uno spazio di lavoro che è essenzialmente il progetto normale. E nella working copy è dove effettivamente io faccio le modifiche, dove scrivo il codice, il luogo in cui scrivo il codice. Quindi normalmente io lavoro nello spazio di working copy e di tanto in tanto salvo nel repository la versione a cui sono arrivato. La working copy è per sua natura privata, perché sono i file che ho io sul mio computer. quando ci saranno i repository potrò decidere, adesso vediamo come, di condividere questo repository con altre persone. Quindi abbiamo due contenitori, uno la copia di lavoro, l'altro repository, e ci sono delle operazioni che permettono di spostare i dati da uno all'altro. Allora, l'operazione più importante è quella di cosiddetta di commit, che è quella in cui lo stato attuale della copia di lavoro, della working copy, viene salvato come l'ultimo, diciamo così, livello, l'ultimo piano del repository. Quindi si aggiunge un livello in più al repository contenente una copia di ciò che sto facendo. Quindi questa operazione è l'operazione in cui il repository può crescere. Il repository può solo crescere, non posso cancellare nulla. Cioè la storia non si cancella, non si riscrive. Si può solo aggiungere. E quindi l'operazione per aggiungere, aggiungo alla storia il momento attuale, la working copy attuale. In realtà quello che viene fatto, per ragione di efficienza, che non viene salvato l'intera copia del progetto, come se facesse un copy e incolla, o come se facessi un archivio zip, ma vengono salvate solamente le differenze. Quindi si va a vedere che cosa è stato effettivamente modificato e si registra la differenza rispetto alla versione precedente. Questo rende anche più efficace, più rapida la ricerca e più compatta la quantità dei dati, perché immaginate di avere, dovete comunque avere tutte le versioni di tutti i file. Quindi se le memorizzassi per intero sarebbe abbastanza pesante. Questa operazione è un'operazione che se anche ho modificato 27 file diversi, avviene in un colpo solo, in un botto solo. Quindi normalmente non vado a scegliere un file, due, tre, con il rischio di dimenticarmene uno, ma poi vediamo in pratica nei clips come si fa. e la cosa importante è che bisogna dare sempre un commento, un messaggio, un messaggio ad ogni commit. Quindi quando io dico ok, salva questi files, salva questo copio di lavoro, lui mi obbliga a scrivere un commento. Sì, ma cosa hai fatto? Cosa ha di speciale questa versione? Cosa hai corretto? Cosa hai aggiunto? In modo che poi quando vado a vedere la storia io non vedo solamente delle date relative alle varie versioni, ma vedo anche i messaggi, i commenti che avevo scritto a suo tempo e poi quindi mi ricordano che cosa faceva quella specifica versione. Poi esiste anche l'operazione inversa del commit, che in generale si chiama update, nella terminologia invece di git si chiama invece checkout, che è la stessa cosa, significa estrarre dal repository una versione che sia l'ultima o che non sia l'ultima, anche la versione vecchia, e portarla nell'area di lavoro. E quindi se io voglio andare a ripescare una versione che sia precedente oppure aggiornarmi all'ultima versione, perché magari questo repository condiviso, io sono quattro giorni che non ci lavoro, ma i miei colleghi sì, e quindi la prima cosa che voglio fare è aggiornare la mia copia di lavoro con l'ultima versione presa dal repository su cui avranno salvato, avranno fatto commit i miei colleghi. E quindi in questo modo aggiorno la mia copia di lavoro e in questa operazione bisogna fare attenzione perché potrebbero esserci dei conflitti, perché se io e te stiamo lavorando sullo stesso file, tu l'hai modificato, io anche, e allora quando faccio un'operazione di update rischio di sovrascrivere le mie modifiche con le tue ultime modifiche. Allora queste operazioni qua vengono impedite dal sistema di versionamento e dice guarda attenzione non posso perché c'è un conflitto. Allora se c'è un conflitto devi dirmi tu come fare a unire, a fare un merge, un'unione delle modifiche dei due oppure decidi tu di ignorare le modifiche dell'uno o dell'altro, ma sono sempre operazioni che devi fare esplicitamente. Cioè lui in automatico è impostato in modo da non farti mai perdere i dati. Piuttosto ti fa perdere la pazienza perché a volte diventa difficile capire cosa devo fare per riuscire a fare un aggiornamento, perché lui si rifiuta di fare commits, si rifiuta di fare check out perché vede dei conflitti. Posso perdere la pazienza ma non perdo dei dati. Ecco questa è la sua filosofia. Ok, questi sono i concetti di base. Repository e working copy. Adesso chiediamoci ma dove sta il repository? Una scelta possibile potrebbe essere e alcuni sistemi di versionamento lo fanno di avere un repository centrale da qualche parte su un server. Quindi abbiamo un server da qualche parte che contiene il repository condiviso per tutto il gruppo di lavoro. Quindi abbiamo diverse persone che hanno ciascuno sul proprio computer una propria copia di lavoro e queste persone lavorano sul proprio computer e ogni volta che devono fare commit faranno commit sul repository centrale e ogni volta che devo fare update devo fare update dal repository centrale. Questa è una soluzione che ci permette di lavorare contemporaneamente, permette di avere un punto unico in cui c'è la verità, ma qua siamo sicuri che c'è l'ultima versione diciamo così salvata, committata, lasciatemi usare questo termine anche se non è italiano, ha chiaramente lo svantaggio che tutti devono essere sempre online collegati nel senso che io non posso a questo punto fare un commit se non lo faccio esattamente in questo repository e non me lo posso fare per prova localmente, qualunque cosa faccia viene immediatamente vista e condivisa da tutti. questo è un modello relativamente semplice ma che si è evoluto però quando tu devi pensare che hai tanti sviluppatori e questi sviluppatori possono magari lavorare su parti diverse del progetto, su varianti diverse del progetto per cui immagino che uno stia lavorando sull'algoritmo e un altro stia lavorando sull'interfaccia grafica allora io non ho interesse a essere aggiornato su tutte le singole versioni dell'algoritmo che fa lui perché io magari farò 27 versioni in cui provo diverse impostazioni dell'interfaccia grafica allora non siamo necessariamente obbligati a essere allineati su tutto io potrei avere la mia copia del progetto in cui vado avanti a modificare i file dell'interfaccia grafica lui la sua copia del progetto e mantenendo diciamo così l'algoritmo versione 1 lui può avere può lavorare sui file diciamo più algoritmici e quindi ci lavora su quell'insieme di file mantenendo la versione 1 dell'interfaccia grafica e così andiamo avanti in parallelo su parti diverse del progetto chiaramente non dobbiamo fare danni sui file comuni e a un certo punto metteremo insieme il tutto allora per far questo questo ci sta dicendo che in realtà il progetto non ha un'unica fonte un unico punto centrale da cui evolve può evolvere in modo diverso allora su questo si sono diciamo sviluppati sistemi di controllo di versioni cosiddetti distribuiti in cui ciascun utente vedete qua c'era l'utente di prima non ha solo la copia di lavoro ma ha anche una sua copia intera dei repository quindi l'operazione di commit che faccio le faccio sempre solo localmente l'operazione di aggiornamento che faccio le faccio solamente localmente sul mio computer come se lavorassi da solo come se non esistessero altre persone che lavorano sullo stesso progetto e idem quest'altra persona questa qua che aveva il cappello prima può lavorare sullo stesso progetto avendo lui una copia diversa dei repository della mia è chiaramente diversa nel senso che magari all'inizio sono uguali ma poi quando lui ci fa delle modifiche sono diverse rispetto alle modifiche che ci faccio io quindi manteniamo ancora sempre la dualità tra commit e update o checkout ma sappiamo che queste operazioni sono operazioni locali ovviamente avremo bisogno di un meccanismo per far sì che i vari repository repository 1 repository 2 in qualche modo vengano allineati ogni tanto bisognerà sincronizzarci bisognerà dire ok siamo arrivati a questo punto prima osservazione seconda osservazione diciamo così dovrebbe esserci un repository centrale chiamiamolo 0 o a volte si usa la lettera O perché normalmente si chiama origin questo repository l'origine del repository il punto centrale e vedete in questo caso l'abbiamo messo su un server non c'è una persona che ci lavora ma è un luogo diciamo così in rete in cui è comunque accessibile l'intero repository una copia dell'intero repository quindi abbiamo tanti sviluppatori che possono lavorare per conto loro quando vogliono si sincronizzano i propri repository tra di loro e quando vogliono possono sincronizzare i propri repository con quello sul server con quello diciamo così centrale con quello principale che è condiviso tra tutti e quindi abbiamo nuovi tipi di operazione ad esempio abbiamo l'operazione in cui io prendo il mio repository locale e aggiorno il repository centrale remoto con le ultime modifiche che io ho inserito nel mio repository locale quindi ricordiamoci noi abbiamo la working copy che era quel triangolo in cui abbiamo fatto commit vc non è gabinetto ma è working copy abbiamo fatto commit nel repository locale repo locale e questo sta sul mio computer poi ogni tanto voglio fare un aggiornamento perché voglio repo sul server remoto voglio fare un aggiornamento in modo che gli altri lo possano vedere e quindi gli altri sul loro computer avranno il loro repository locale su cui avrà da cui ovviamente potranno estrarre la loro working copy allora quando io modifico un file della mia working copy dovrò salvarlo nel repository locale dovrò fare un push delle ultime versioni del mio repository locale su quello remoto e chi è interessato a vedere le versioni dovrà prendere l'ultima versione del repository remoto portarsela sul proprio computer e da lì estrarre la working copy quindi è sempre un doppio passaggio prima salvo in locale poi dal locale vado al remoto prima estrago dal remoto e poi dal remoto estrago nella working copy è un doppio passaggio che a volte a volte ci dimentichiamo uno dei due passaggi e poi ci chiediamo perché i file non si sono aggiornati ma questo ci prenderemo l'abitudine ok qui c'è questa operazione diciamo dovuta al fatto che abbiamo tanti repository di sincronizzazione tra un repository e l'altro e prende due nomi il nome push è dal locale verso il remoto e poi c'è l'operazione inversa di pull dal remoto verso il locale ovviamente tutte queste operazioni di push e di pull possono essere possono generare dei conflitti se ovviamente le modifiche che sono state fatte da persone diverse modificano in modo diverso gli stessi file allora in questo caso vi dirò attenzione il push non può avvenire oppure il pull genera dei conflitti e noi li dovremo gestire ovviamente ma questo speriamo se siamo ordinati nel lavorare questo succederà ma è una protezione che abbiamo per non generare dei file per non sovrascrivere perdere dei file dei lavori che abbiamo fatto quindi qua siamo sicuri di non perdere mai il lavoro tra l'altro in questo meccanismo io sono tranquillo perché qualunque cosa succedesse se questo computer domani andasse a fuoco non perdo nulla perché tutto ciò che avevo fatto tutta la storia tutto ciò che avevo fatto se sono stato furbo l'ho salvato su questo server remoto e quindi mi basta prendere un altro computer fare un'operazione di pull iniziale e ricontinuo a lavorare esattamente come un secondo prima quindi questo non solo ci dà la possibilità di gestire il flusso di lavoro ma ci dà anche la sicurezza di non perdere dati anche se ci fossero dei problemi dei guasti al nostro computer ok questi sono i concetti generali questi concetti sono vari sistemi di versionamento che li implementano noi vedremo quello che di gran lunga è il più diffuso il più famoso che è il progetto Git tenete presente che il progetto Git è stato inventato per permettere agli sviluppatori del kernel di Linux quindi del sistema operativo di Linux che sono migliaia di persone diverse alcuni lavoravano a tempo pieno alcuni sono semplicemente gli hobbisti su tutti i fusiorari del mondo che lavoravano su questo mega progetto condiviso di centinaia di migliaia di linee di codice e allora si sono dovuti inventare questo sistema proprio per permettere di sviluppare su quella scala Git è stato inventato appositamente tratto da Linux Torvalds che è lo stesso autore iniziale di Linux è stato inventato per poter gestire progetti di quella dimensione con un team di sviluppo assolutamente distribuito a livello mondiale poi ovviamente noi lo useremo in un contesto un pochino più semplice però è molto noto è molto adottato proprio perché è dimostrato che funziona su quelle scale quindi di fatto oggi viene usato da tutti essenzialmente Git chiaramente è un insieme di comandi che permettono di implementare l'operazione di commit push pull eccetera eccetera e voi mi chiederete ma perché nelle istruzioni iniziali che ci hai dato all'inizio del corso non mi hai chiesto di installare Git perché in realtà è già integrato dentro Eclipse quindi per noi in realtà c'è già ma quando abbiamo installato Eclipse uno dei plugin diciamo così predefiniti preinstallati di Eclipse è proprio si chiama E-Git e proprio implementa questi comandi quindi noi non abbiamo bisogno di scaricare nulla di più è chiaro che se volessimo accedere ai repository al di fuori di Eclipse avremmo bisogno di un programmino che sia in grado di leggere o scrivere questi repository Git e qui ci sono alcuni link per chi vuole scaricare in più un altro client Git o a linea di comando oppure grafico in aggiunta a quello che c'è già dentro Eclipse ma per il corso non ci serve installare nulla di più ok qui ci sono questi link come dicevo adesso torniamo alla figura iniziale dove avevamo un server remoto ma questo server remoto dove lo mettiamo chi ce lo gestisce cioè ci serve un sito in cui poter salvare queste cose il repository remoto cioè il repository locale ce l'ho sul mio computer va bene una volta che ho estratto Eclipse col plugin e Git faccio tutto quello che devo fare ma sul server remoto ho bisogno di qualcuno che mi apra un server in cui posso fare questa operazione di push e pull del mio repository locale su quello remoto e ci sono varie offerte varie diciamo così aziende che offrono proprio questo servizio la più famosa di tutte è quella che si chiama GitHub ma non è l'unica come vedete qua ce ne sono diverse questo GitHub che è quello che useremo noi quello diciamo statisticamente quello più utilizzato che ha una ci permette non solamente di ospitare i nostri repository ma di avere la nostra area personale le nostre aree di gruppo nelle quali salvare i vari repository i vari progetti e quindi permette a ogni sviluppatore di avere la sua pagina GitHub in un certo senso dove fa vedere quali sono i suoi progetti e rende facile agli altri poter contribuire ai progetti quindi ah io ho fatto qualcosa ma è sbagliato allora c'è qualcuno che me lo corregge oppure semplicemente prende il mio progetto perché gli piace e va avanti se lo sviluppa per conto suo un'altra sua versione e quindi incentiva questa la modalità con cui è stato pensato GitHub incentiva proprio il lavoro su progetti comuni da parte di persone diverse adesso un anno un anno e mezzo fa GitHub è stato acquistato da Microsoft quindi questo ci dà una tranquillità sui suoi sviluppi futuri ma di per sé continua a essere un prodotto indipendente è gratuito puoi creare quanti progetti vuoi non c'è nessun limite alla quantità dei progetti che puoi creare e il motivo per cui all'inizio del corso vi ho detto createvi un account su GitHub sceglietevi il nome che volete ma come mail indicate la mail del Politecnico perché se siete così riconosciuti come studenti quindi potete avere accesso a una serie di prodotti scontati se vi interessano offerti solamente diciamo così agli studenti da parte di GitHub vi avevo anche suggerito quando usate quando create l'account di non usare come nome dell'account la vostra matricola del Politecnico perché molto spesso diciamo l'account che vi fate adesso su GitHub continuate a usarlo per i vostri progetti futuri e diventa anche una sorta di curriculum personale nel senso che se io voglio far vedere cosa ho fatto è molto cioè si usa molto ad esempio consultare c'è una parte quando avete la vostra pagina personale GitHub fa vedere quali sono i progetti principali su cui lavorate ma fate far vedere anche con questi cartellini qua quanto siete attivi quanti commit avete fatto quanto codice avete scritto e quindi diventa anche un po' colpo d'occhio un modo per presentarsi o per farsi vedere in questo mondo diciamo così degli sviluppatori quindi l'idea è che probabilmente non utente che avete scelto per GitHub ve lo portate avanti anche nella vostra vita lavorativa in un certo senso quindi non usate nuori matricola che se tutto va bene tra tre mesi non vi serve più perché ve lo cambiate ok ci sono altri siti che fanno la stessa cosa ma non ci interessa non li useremo durante il corso ecco poi esiste una ma ne parliamo più avanti una piattaforma che si appoggia su GitHub che si chiama GitHub Education che è quella che useremo durante gli esami ok che ci permetterà di poter raccogliere le consegne dei vostri dei vostri lavori durante l'esame si basa su Git quindi si basa esattamente voi lavorerete normalmente ma semplicemente quando farete push noi potremo vedere in modo ordinato tutti i progetti di tutte le persone ok questo non preoccupiamoci adesso adesso impariamo proprio l'ABC le mosse principali impareremo a usare questo meccanismo verso la fine del corso quando faremo le simulazioni d'esame quindi faremo le ultime due esercizazioni in cui useremo anche questa piattaforma Education che è la stessa identica che useremo durante l'esame quindi per ora non ci perdiamo tempo allora questi sono vi ho riempito un po' la testa di concetti in questa ultima mezz'ora vediamo in pratica cosa che cosa comportano che cosa significano ok allora io ho qua sintetizzato due workflow due flussi di lavoro e vediamo i vari passi per implementare ciascuno di questi due il primo diciamo così allora Celeste mi chiede se non avete usato la mail del Politecnico non è assolutamente un problema l'accesso agli esami no assolutamente durante l'esame vi verrà chiesto di entrare col vostro account GitHub e io preparo diciamo nel sistema carico l'elenco degli studenti mi dovete dire chi siete quindi io sono questo qui dovete scegliere nella fase iniziale quando scaricate il tema d'esame di associare il vostro account GitHub al vostro non utente se partecipate alle simulazioni di esami in realtà questo passo lo farete già prima quindi l'esame il sistema sa già chi siete indipendentemente dalla mail del Politecnico non interessa si puoi aggiungere il mail ma non è dal punto di vista formale non è necessario ok e solo soprattutto se volete avere accesso a questi sconti che sono riservati agli indizi di mail che sono etichettati come education ok proviamo a fare un primo passaggio partiamo da zero e facciamo un progetto che vogliamo condividere con altri questo progetto lo possiamo fare salvare il nostro spazio personale allora questo workflow l'ho chiamato ma crea un nuovo progetto vediamo che passi fare ok quindi andiamo passo passo adesso sulle slide ci sono delle figurine delle videate ma non ci cioè noi le facciamo così dal vero quindi vogliamo fare un progetto dove è finito Eclipse qua vogliamo fare un progetto che chiamiamo con tanta fantasia prova git ok per provare come funziona git quindi io mi sono aperto Eclipse su un workspace con qualche progetto ne voglio creare uno nuovo qui non c'è nulla di particolare creo il mio progetto lo creo con maven project e vado avanti metto tdp me lo trova vado avanti it polito tdp lo chiamo prova git gli stessi passi che abbiamo fatto per creare i progetti finora e qui mi crea un normalissimo progetto Eclipse per ora questo progetto non è ancora associato a nessun repository ok io però voglio creare un repository e salvarlo su github e sincronizzarlo con un repository su github quindi prima di andare avanti a lavorare su questo repository dovrò andare su github e costruire il suo remoto il suo gemello remoto allora apro github e qui sono nella mia area personale qui possiamo avere delle aree personali quindi ciascuno di voi ha un area come github slash e il nome che avete scelto oppure potete far parte di cosiddette organizations il nome che lui dà per i gruppi infatti tutto il codice del corso lo metto dentro un utente che si chiama tdp 2021 che è un organization gestita da noi docenti essenzialmente nella quale salviamo i vari esercizi che voi avete visto fin lì adesso oggi impariamo diciamo così a destrarle modificarle eccetera io però la prima la prima prima operazione la faccio usando il mio account personale perché è quello che potete fare anche voi ok allora nel mio account personale faccio crea un nuovo repository questo bottoncino di più in alto destra crea un nuovo repository quindi potete farlo anche voi in parallelo e quindi mi chiede questo repository dove lo devo creare beh nella mia area personale piuttosto che in una dell'organization in cui ho il diritto di scrittura e poi il nome del repository allora il nome lo chiamo come il nome del progetto prova git lui mi diceva bene in questo in questo workspace questo nome prova git non esiste ancora lo puoi creare e qui posso dare una piccola descrizione soprattutto decidere se il progetto deve essere pubblico o privato cioè privato vuol dire che sarà visibile solamente a me o alle persone che sono amministratori della mia organizzazione della mia organizzazione oppure pubblico chiunque lo può vedere chiaramente quando voi create un progetto e volete farci vedere ciò che avete fatto perché magari avete le domande lo dovete creare pubblico altrimenti noi non riusciamo a leggerlo poi qui lui attenzione vi chiede vi suggerisce di aggiungere dei file ad esempio un file readme dentro il progetto che è buona cosa avere un readme che spiega che è il progetto ma non fatelo in questa fase non fatelo nella fase di creazione dei repository perché ma perché altrimenti avremo due versioni del progetto quella che abbiamo appena creato in Eclipse che contiene dei file ma non contiene questo readme e poi avremo una versione dei repository che viene inizializzato su github che conterrebbe il file readme ma non corterebbe i file di progetto e questi due sono incompatibili quando cercate di fare push vi dicono attenzione non puoi perché qua il file non c'è di là c'è allora cosa devo fare devo tenerlo devo fonderlo devo cancellarlo eccetera eccetera quindi in prima battuta non facciamo nulla di queste cose e creiamo il repository vuoto clicco su create readme lo potrò aggiungere tranquillamente ma lo aggiungo dai clips crea repository e a questo punto lui vi da questa pagina poco piacevole in cui vi dice guarda questo repository qua c'è ma è vuoto non c'è niente dentro e quindi non ti faccio vedere niente ti faccio vedere dei comandi strani che ti permettono di mettere qualcosa dentro questo repository però l'abbiamo creato quindi abbiamo un repository che si chiama mio nome slash prova git ok e questo repository ha un indirizzo un indirizzo anzi doppio che può essere o tramite https o tramite ssh noi useremo quasi sempre l'accesso tramite https l'accesso a web se uno invece lavorasse magari su sistemi anche diciamo così più sistemi in cui la sicurezza viene gestita attraverso le chiavi ssh chiave pubblica chiave privata anche può caricare su github la chiave pubblica del proprio account e quindi è più facile diciamo così accedere i propri progetti senza dover inserire la password essenzialmente ma si inserisce una volta sola la propria chiave pubblica su ssh non è un argomento di oggi quindi però si può scegliere ogni volta che tipo di sono due modi diversi di accedere allo stesso indirizzo sono due modi diversi di far login al progetto in certo senso ok a questo punto questo è l'indirizzo del progetto io devo collegare il mio progetto eclipse a questo repository remoto allora qui comincia il lavoro vero prima di tutto qui ho un progetto java che non è un progetto sotto controllo versione non è un progetto sotto git è solamente un progetto normale quindi io devo prima di tutto creare anche un repository locale quindi su github ho creato un repository remoto vuoto adesso voglio sincronizzare qui ho solamente una copia di lavoro ma non un repository locale su eclipse quindi creiamo il repository locale tutti i comandi legati a git sono sotto il menu team quindi vado sul progetto tasto destro team vedete che questo menu è abbastanza povero non c'è nulla dentro e non c'è nulla perché questo progetto non è ancora sotto git non è ancora un repository associato per creare repository semplicemente clicco su share project anziché create repository l'hanno chiamato share project il concetto è sempre lo stesso voglio condividere questo progetto quindi fammelo fare clicco su share project e lui mi dice ah bene va bene vuoi creare un repository git dimmi dove vuoi salvarlo repository git lo potrei salvare ovunque questo qua è semplicemente una cartella in cui lui si salva delle informazioni dentro la mia scelta normalmente è quella di salvarlo nella stessa cartella in cui c'è il progetto e quindi questa prima casellina si dice usa o crea i repository nella stessa cartella principale del progetto se no uno lo può mettere dove vuole ok può salvarlo dove vuole il progetto è questo questo è il progetto di cui vogliamo creare repository e lui mi chiede dove lo vuoi creare e qui posso scegliere una qualunque cartella allora io per comodità lo salvo direttamente dentro il progetto e lui mi chiede quale progetto è questo quindi devo cliccare selezionare cliccarlo lui mi dice ma non farlo mi dice ma no ma non è non è non è raccomandato non ti raccomando di creare l'area git dentro la cartella di progetto creala da qualche altra parte per maggior sicurezza ignoriamo questo warning e clicchiamo su create repository ok quindi sono tre passaggi quando arrivo su questa finestra devo dire creano dentro il progetto uno selezionare il progetto e poi fare create a questo punto me l'ha selezionato me l'ha creato e faccio finish ed è cambiato leggermente la faccia di questo progetto allora adesso qui le icone sono molto piccole da vedere purtroppo non si riescono a ingrandire facilmente ok però le vedrete anche sul vostro computer innanzitutto vedete che sono comparsi in basso a destra dei simbolini qua c'è questo simbolino giallo che è di fatto il bidone il bidone che identifica i repository e questo ci ricorda che questo progetto vedete qua a differenza degli altri è a un repository associato che è appunto questo bidoncino qua e poi in tutti gli altri file da questo momento in avanti in tutti i file ci saranno delle icone che ricordano lo stato di sincronizzazione del file rispetto al repository locale qui per ora siamo solo nel repository locale il punto interrogativo che compare significa non lo so questo file non è ancora nel repository e quindi non so se è aggiornata sull'ultima versione oppure no perché non lo so perché io finora ho creato il repository vuoto repository locale vuoto quindi noi adesso abbiamo una copia di lavoro un repository locale vuoto che non contiene una copia della copia di lavoro e poi abbiamo un repository remoto vuoto vorremmo cominciare a metterci qualcosa dentro allora questo lo possiamo fare sempre attraverso il menu team che questa volta sia popolato di roba quindi vedete che adesso il menu team è ricco di opzioni vogliamo salvare la prima copia di lavoro che in realtà è il progetto vuoto il progetto appena creato nel repository locale e da qui fare anche push sul repository remoto ok commit è la prima opzione facciamo commit facciamo ecco questo menu team conviene sempre tirarlo fuori da quando siamo sulla sul progetto intero non solamente su un singolo file perché altrimenti lui capisce che vogliamo fare solamente il commit di un file team commit e ci apre la finestra di commit che adesso espandiamo che lui chiama git staging allora questa finestra anche lei ha il suo perché ha la sua complessità la cosa più facile è questo blocco qua sulla destra che dice commit message e ci dice allora qual è il tuo messaggio allora scrivo la versione iniziale del progetto con nulla dentro ok poi mi chiede mi fa vedere qua in questa sezione i file che sono stati modificati rispetto alla versione precedente del progetto cioè tutti di fatto e sotto inserisco quali file voglio che facciano parte di questo commit cioè lui mi sta dicendo magari non hai modificato un file solamente per delle prove oppure un file letto temporaneo su cui stai lavorando non vuoi che vada a finire nel progetto allora lui fa la differenza tra i file modificati changes che però sono unstaged non sono ancora messi in partenza rispetto alle modifiche che sono staged sono messe in partenza posso scegliere quali file trascinare da sopra a sotto e questi saranno i file che verranno effettivamente aggiunti in questo commit 90 volte su 100 li voglio tutti e quindi per questo posso cliccare questo doppio più aggiunge tutti i file quindi a questo punto ho svuotato le modifiche non on stage non in partenza e sono tutte modifiche in partenza tra l'altro tra questi vari file ci sono alcuni che sono i nostri programmi altri che sono i file di configurazione di Eclipse ce n'è uno particolarmente curioso che si chiama git ignore che invece è molto utile perché contiene lo possiamo poi modificare aggiungendo delle istruzioni i nomi dei file delle cartelle che git deve ignorare quindi ad esempio Eclipse ci mette già in automatico questa directory target che è quella dove vengono salvati i binari le classi le jar eseguibili eccetera eccetera per evitare di fare commit di roba che non serve a niente quindi noi possiamo poi escludere alcune parti del progetto dicendo queste parti rimangono locali non fanno parte del repository riassumendo progetto ho dato il comando commit ho inserito il messaggio e ho scelto quali modifiche devono essere predisposte per la partenza se le voglio tutte clicco sul doppio più e vanno finite tutte sotto ok se non faccio questo passo il mio commit sarà vuoto non conterrà nulla invece devo proprio ricordarmi ogni volta di scegliere questo fatto questo sono pronto per fare il commit e qui sotto ho due bottoni diversi commit oppure commit push commit farà il commit sul repository locale commit push farà il commit sul repository locale e poi avvierà l'operazione di push sul repository remoto quello che abbiamo creato su github ok noi vogliamo collegare il repository locale a quello remoto e quindi scegliamo questa opzione qua commit e push subito e il commit da solo serve se volessimo fare una serie di modifiche locali e poi fare solamente una sola volta push alla fine perché magari vogliamo fare tutto insieme o non abbiamo ogni volta voglia ogni volta di fare questa operazione ma normalmente useremo questo commit and push il commit l'ha fatto istantaneamente il commit è un'operazione che non non dà è istantanea di fatto perché semplicemente significa salvare un file sul tuo computer il push invece richiede un po' di tempo Beatrice mi chiede dove c'è altro commit dobbiamo mettere la mail con cui ci siamo registrati su github in realtà author dovrebbe essere l'autore cioè chi ha fatto le modifiche e commit è la persona che sta salvando il progetto quindi questo va bene per progetti complicati dove tu magari hai più persone una persona ha fatto una modifica ma è una persona diversa quella che magari rivede quel codice e poi fai commit non c'entra nulla con la mail di github è semplicemente una mail che viene registrata nel messaggio di commit poi è ovvio che siete sempre voi se siete sempre voi conviene che usiate sempre la stessa la stessa mail però non è obbligatorio cioè è l'autore che volete a cui volete che venga attribuita quella modifica quella modifica di codice ok quindi potete anche mettere volendo la mail di qualcun altro scegliere una mail questa mail qua allora mentre la mail con cui vi siete registrati github rimane privata non la vede nessuno su github io da github non riesco a vedere le vostre mail questa qui invece viene salvata in chiaro dentro i messaggi di commit quindi mettete la mail che gli altri vogliono vedere che volete che gli altri vedano di voi ok quindi abbiamo fatto commit abbiamo salvato quelle tre cose cioè i cambiamenti i cambiamenti stage changes il messaggio di commit e l'autore queste tre cose sono finite dentro un commit adesso stiamo facendo il push questa è la finestra di push mi chiede di dare un nome al repository remoto normalmente si chiama origin perché mi chiede di dare un nome ma perché git permetterebbe di avere più remoti diversi associati allo stesso progetto noi abbiamo pensato con un remoto solo su github però volendo potrebbero esserci più remoti diversi per progetti che vogliamo sincronizzare in modo diverso e quindi ognuno di questi remoti avrà repository remoti avrà un suo diciamo così nome per identificarlo vabbè questo lasciamo origin poi mi chiede dov'è location dov'è questo repository remoto questa finestra qua è stata fuori solamente la prima volta la prima volta che faccio push mi chiede sì ma dove poi le volte successive ovviamente se lo ricordo allora dove qua quindi copio questo indirizzo e torno di qui e lo incollo in questo indirizzo a questo punto Eclipse capisce cosa sto facendo quindi da questo indirizzo ha compilato l'host e il part del progetto e qua sotto mi chiede va bene tu vuoi salvarlo su github ma quali sono le due credenziali github allora io devo inserire qua dentro il mio nome utente e il mio la mia password di github in modo che Eclipse possa salvarci sopra possa salvarci sopra il mio progetto ok se poi dico memorizzala nella cassaforte vuol dire che le volte successive come è successo a me in questo momento non ho dovuto scrivere la password che tra l'altro non me la ricordo ma Eclipse se la ricorda per me ok questa procedura per rispondere a Francesco la dobbiamo ripetere ogni volta che creiamo un nuovo progetto da zero adesso l'abbiamo fatta lunga ma poi sono quattro clic devo fare semplicemente share aggiungi commit e poi inserire qua questo indirizzo ok però quando creo un nuovo progetto questo nuovo progetto nasce senza nessun repository associato e quindi dovrò nuovamente associarlo in un repository se voglio ok ci siamo quasi quindi abbiamo inserito l'indirizzo se qua avete inserito la password di github corretta potete andare avanti e lui vi dice vi da riassunto di ciò che viene fatto come push quindi questo è il nome del cosiddetto branch branch è un concetto che non abbiamo ancora introdotto nel senso che nello stesso repository possono essersi più rami di sviluppo diversi ciascuno con un nome ce n'è uno che è quello principale che normalmente prende il nome di master branch anche se in quest'ultimo anno ci sono stati molti sviluppatori che diciamo così si sono un pochino alterati sul fatto che il ramo principale si chiamasse master perché master è un termine schiavista negli Stati Uniti si fanno queste queste fisime del tipo perché master è associato a slave quindi il master è il padrone di uno schiavo e allora essendo un termine schiavista non dobbiamo più usarlo e molti usano main anziché master quindi il ramo principale di un progetto fino all'anno scorso si chiamava master sempre in tutti i progetti da quest'anno alcuni decidono di chiamarlo main alcuni decidono di chiamarlo master cercano in qualche modo di non usare un termine che non sarebbe gradito a tutti quindi se vedete master se vedete main sono termini intercambiabili è solo il nome del ramo questo è un riassunto il riassunto dice guarda c'è questo commit che hai fatto questo codice qua è il codice univoco del commit è unico in tutto l'universo e stai per fare un push verso questa destinazione su github questa qua è fondamentale questa casellina qua che nasce già nella posizione settata quindi va bene vuol dire che da questo momento in avanti quando faccio push e pull il repository locale e questo repository remoto sono collegati quindi non mi chiederà poi tutte le volte sì ma qual è il repository remoto eccetera li collego automaticamente passo avanti qui mi fa mi chiede per l'ultima volta è un po' noioso la conferma che voglio veramente fare questo sì finalmente clicco su push e poi mi dà un'altra finestra che sembra identica a quella precedente ma mentre quella prima mi chiedeva la conferma qui mi dà mi dà lui la conferma che è avvenuto push è stato fatto ok sono a posto sono a posto per cui se torno su git e provo ad aggiornare la pagina non vedo più vuoto ma vedo i file del mio progetto con il commento versione iniziale del progetto che corrisponde appunto a quello che abbiamo appena fatto questa è la lunga trafila ma poi quando la fate normalmente dura 10 secondi per collegare a un progetto locale un repository su gitab se voi volete a questo punto questo repository ha un suo indirizzo e lo potete scaricare c'è ancora un'altra operazione che non vi ho detto ok qui posso lavorare sul mio progetto posso farlo privatamente non mi interessa io ho un file main ho un entry point e lavoro normalmente sul progetto immaginiamo di voler modificare qualcosa che ne so questo progetto qua ci ricordiamo quando creavamo un bottoncino se non sbaglio dove me l'ha aperto questo c'era questo click me che stampava sulla console you click me noi vogliamo modificare qualche cosa quindi magari nel controller anziché dire you click me nella console scriviamo bottone premuto tre punti esclamativi e nel file fxml vogliamo modificare qualche cosa per cui magari il bottone anziché anziché click me lo chiamiamo premimi subito due modifiche cretine per vedere che cosa succede ok quindi salvo qua salvato e quindi se rieseguo questo progetto mi verrà fuori un bottone che adesso non è ben allineare troppo piccolo quindi andrebbe allargato premimi subito e mi stampa il bottone premuto fate una modifica idiota ok adesso abbiamo modificato il progetto vogliamo aggiornare queste modifiche anche ai nostri repository perché finora abbiamo lavorato modificato nella copia di lavoro nella working copy non è ancora queste modifiche non sono ancora né nel repository locale né tantomeno nel repository remoto la domanda di Michele mi chiede cosa vuol dire password int nella conferma del push non ho idea di cosa sia adesso che rifaccio push lo vediamo insieme non ho presente cosa sia quel campo nella conferma di push non so adesso lo vediamo subito ok guardiamo il progetto a fianco di alcuni file che sono quelli che abbiamo modificato compare questo simbolo di maggiore vedete compare come simbolo di maggiore qua e compare come simbolo di maggiore qua questo vuol dire che questi file sono più nuovi aggiornati rispetto al repository locale e questo maggiore chiaramente viene propagato verso l'alto perché tutto il progetto viene indicato come da aggiornare quindi quando vedete questo simbolo di maggiore vuol dire che avete modificato qualche cosa e quindi avete bisogno di fare commit quindi se io torno a fare commit avete modificato qualcosa sulla copia di lavoro quindi il repository locale non è più aggiornato se io faccio commit mi fa vedere che ci sono nella finestra di commit due file modificati lui li ha già predisposti come modifiche pronte per la partenza perché questi due file li avevo già prima selezionati come file da salvare quindi non devo fare ogni volta aggiungere un file l'aggiunta la devo fare la prima volta che creo un file nuovo allora me lo metterà come cambiamento non pronto e lo devo spostare sotto il tipo di modifica è un asterisco che vuol dire file modificato potrebbe essere un più la volta scorsa erano tutti di più verdi per dire file nuovo potrebbe essere un meno rosso per dire file cancellato quindi aggiunta modifica cancellazione qui mi ricorda che cosa sono e quindi scrivo modifica creatina che mi ricordo che abbiamo fatto solamente questa modifica commit and push e a questo punto mi dà semplicemente la conferma che il push è avvenuto nel frattempo visto che Alessandro ha risposto e Giovanni hanno risposto a Michele sul fatto che quelle erano le domande la password int che ti chiede durante il push sono i suggerimenti che ti saltano fuori se ti dimentichi la password ok quindi non avevo notato che ci fosse questa funzionalità grazie grazie per aver risposto ok cosa abbiamo fatto adesso abbiamo fatto un ulteriore push quindi se torno su github e ricarico il progetto vedete che c'è una su alcune voci c'è scritto che ho fatto la modifica cretina e se vado dentro mi fa vedere quali sono i file che ho modificato 12 minuti fa oppure un minuto fa e questo è quello che con la modifica dentro posso entrare e vedere il codice eccetera all'interno del repository posso vedere anche vedete qua due commit in alto destra e l'elenco di tutti i commit che sono stati fatti da chi e in quale momento 12 minuti fa o un minuto fa eccetera eccetera qui ho la storia di tutti i commit fatti chiaramente i commit che sono arrivati fino a github quindi di cui ho fatto un push dal repository locale quindi normalmente usiamo sempre il tastino commit and push qua sotto perché così ci aggiorna contemporaneamente sia il repository locale vedete che il repository locale è aggiornato perché non ci sono più quei segni di maggiore che dicono guarda che è cambiato qualcosa e anche il repository remoto e quindi qua posso lavorare normalmente posso anche vedere ad esempio la storia locale ad esempio in eclipse posso vedere la storia del progetto nei vari passaggi qui sto navigando il repository locale non quello remoto e quindi se volessi potrei anche tornare indietro le versioni precedenti del progetto con l'operazione di check out che estrae dal repository locale nella copia di lavoro per vedere i file precedenti oppure posso selezionare dei file e lui mi farà vedere la differenza fianco a fianco ma su questo facciamo così sono cose avanzate che impareremo via via non riesci a visualizzare il repository locale perché forse non hai fatto share il primo passo che va fatto rispondo a Lorenzo è dal menu team share project se non hai fatto l'operazione di share project il repository locale non è creato e quindi tutti questi comandi qui non esisteranno quindi questo può essere il motivo per cui non lo vedi ok questo è il modo con cui si crea un progetto e si comincia a lavorare e ce l'abbiamo salvato adesso vediamo un altro quindi questo è il passo il passaggio da fare se siete voi a creare un nuovo progetto come facciamo però a collaborare su un progetto fatto da altri preparato da altri ad aggiungere modificare un progetto fatto da altri allora questo richiede un paio di passaggi in più ok quello che staremo per vedere adesso è questo secondo workflow cioè lavorare su un progetto esistente un progetto che ha fatto qualcun altro e io ci voglio lavorare ok quindi chiudiamo questa prima parentesi apriamo una seconda in cui usiamo sempre i comandi git ma in un modo diverso è il modo che useremo sempre da domani in laboratorio prendiamo ad esempio questo repository di github 2021 tdp 2021 dove noi salviamo i nostri progetti da domani qui c'è già normalmente noi cerchiamo di pubblicare già venerdì precedente il testo del laboratorio tanto per abbinare il weekend qui c'è già il laboratorio di domani e dentro questo laboratorio c'è un progetto di partenza su cui voi dovete lavorare ok allora come facciamo se io domani voglio fare il laboratorio come faccio a entrare in questo laboratorio qua e lavorarci sul mio computer qui c'è semplicemente il repository che ha creato Tatiana Tommasi l'altro giorno quando ha caricato il testo del progetto ma io adesso voglio lavorarci come coppia di lavoro sul mio computer attenzione che però questo repository è un repository in cui voi non potete scrivere non potete andare a modificarlo non potete mai fare push su questo repository che non è vostro non è nella vostra area perché non siete amministratori di quest'area qua allora cosa fare allora cosa fare lo faccio su un progetto diverso che non è quello del laboratorio 1 che farete domani lo faccio e possiamo farlo insieme su un altro progetto che ho preparato ieri e che useremo nell'ora successiva che si chiama Libre Cotto Voti è un esercizio che vogliamo fare insieme di ripasso essenzialmente sulle collection sulle liste eccetera eccetera quindi le stesse operazioni che facciamo adesso su questo progetto le facciamo insieme su questo progetto del Libre Cotto Voti domani o quando volete lo potete fare sul laboratorio 1 allora questo è il progetto su cui voglio lavorare fatto da qualcun altro in questo caso sono io fate finta che non sia io sia un altro io su questo progetto dicevo non posso lavorare perché non ho i permessi di scrittura allora devo farmi una copia di questo progetto nella mia area personale su cui poi potrò lavorare quindi questo è un repository su GitHub in cui io posso leggere posso vedere ma non posso scrivere ne faccio una copia creerò un altro repository su GitHub in cui io posso leggere e scrivere perché questo repository sarà nella mia area personale tutte queste grosse parole per un'operazione che si chiama fork in alto a destra nella pagina c'è scritto fork cioè fork crea una versione biforca il progetto attuale e crea una copia quando cliccate su fork vi dice sì dove vuoi salvare la copia di questo progetto adesso voi se vi siete appena registrati su GitHub avrete probabilmente solamente il vostro nome e qui ci sono invece tutte le organizzazioni dei corsi precedenti in cui io posso scrivere quindi vi fa l'elenco delle aree in cui potete scrivere diciamo che voglio lavorarci io quindi me lo salvo nella mia area personale cliccate qua allora cliccate certo fork nella mia area personale allora lui cosa ha fatto ha fatto un progetto che ha chiamato questo caso ha chiamato libertovoti 1 perché probabilmente dall'anno scorso c'era già un altro che si chiamava così se no lo dovrebbe chiamare nello stesso modo e dice guarda che questo progetto è stato forcato da quell'altro di TDP 2021 questo progetto è a questo punto mio nasce come una copia di quell'altro ma diventa mio e ha una storia indipendente sono due repositori remoti che possono evolvere indipendentemente questo qua originale se io anche modificassi il progetto originale TDP 2021 liberto voti non vi modifica minimamente il vostro progetto questo è un progetto nuovo semplicemente inizializzato copiandolo da un esistente ok e il tasto fork per rispondere ad Andrea è qua in alto a destra nella pagina questo qua per rispondere a Marco a questo punto questo sarà il progetto in cui lavorerete voi e quindi qua dove dopo che avete fatto fork oppure quando avete creato un vostro progetto questo link è il link al progetto quindi se c'è qualcosa che non vi funziona nel vostro programma ci mandate non la videata dello schermo che non serve a niente perché di solito l'errore è stato un'altra parte ci mandate direttamente questo link qua se avete salvato il progetto come progetto pubblico noi possiamo entrare nel progetto farcene una coppia e anche guardare il codice dopo che ho cliccato fork ho semplicemente cliccato sul mio nome e perché quando fai fork lui ti chiede dove vuoi salvarlo e io l'ho salvato nel mio nome quindi dovreste avere una finestrella col vostro nome account ci cliccate e lui esegue e vi porta direttamente questa pagina il tasto fork è bloccato perché forse non hai fatto login su github quindi devi entrare devi avere il tuo profilo loggato su github altrimenti non ti puoi fare non puoi fare fork immagino non riesco a usare tdp2021 figuriamoci github.com slash tdp2021 se no qua nella barra di ricerca dovete scrivere tdp trattino 2021 e vi dovrebbe portare ma qui ce ne sono altri perché non me lo fa vedere non lo so mi fa lo stesso se no semplicemente è qua github.com slash tdp trattino 2021 quindi conviene è più veloce scriverlo qua che usare la ricerca in github non è il massimo e quindi da lì avete tutti i repository tdp2021 entrate dentro un repository e cliccate fork questo ve lo copia nella vostra area adesso stiamo facendo l'operazione inversa abbiamo un repository remoto con la cosa su cui vogliamo lavorare ma non ce l'abbiamo nel nostro computer scusate sì arrivo scusate il bello di insegnare la casa dicevamo ce l'abbiamo su github ma non ce l'abbiamo sul nostro computer quindi dovremmo fare i passi a ritroso per prendere repository remoto copiare un repository locale e da qui creare un progetto locale è più facile a dirsi che a farsi di nuovo quindi immaginiamo che io su questo workspace voglia lavorare sul progetto che ho appena creato sul mio progetto quello nella mia area perché se lo faccio su quello tdp2021 non potrò poi salvarci niente dentro e quindi è inutile ok questo è facile perché io basta che faccia il comando import quindi qui ho fatto tasto destro qua nel vuoto oppure file import è la stessa cosa e scelgo di importare un nuovo progetto da git importa un progetto da git quindi sul mio computer non c'era nulla perché quel progetto semplicemente l'ho forcato da github adesso lo voglio importare creare un nuovo progetto eclipse partendo da quel repository remoto allora importa da git vado avanti e lui mi chiede cosa vuoi importare un repository locale che c'è già ma è magari salvato da qualche altra parte sul computer oppure un indirizzo da cui clonare il progetto ecco clonare è una parola nuova ma semplicemente significa fare il pull iniziale cioè creare da zero un primo repository locale facendo un clone di un repository esistente parliamo di fork quando faccio una copia da remoto a remoto parlo di clone quando faccio la copia da remoto a locale però è una terminologia così specifica di git scegliamo questo nella pagina successiva mi chiede qual è l'indirizzo del repository remoto che vuoi clonare è questo qui attenzione quando mi chiede questo indirizzo eclipse non devo mettere l'indirizzo della pagina web ma devo mettere l'indirizzo che mi dà qua in questa finestra la codice vuoi fare clone questo è l'indirizzo che devi usare clicca qua mi fa copia ok che è leggermente diverso vedete che finisce con punto git quindi è un indirizzo leggermente diverso non mettete quello sopra nel browser mettete quello che prendete dal tastino code altra incolla qui e dovreste avere ovviamente è la vostra area quindi avete sicuramente l'accesso in lettura oltre che in scrittura andate avanti lui scopre andando avanti che in questo progetto c'è un ramo che si chiama master che in realtà è l'unico andiamo avanti lo vuoi? sì se ne fosse più rami posso scegliere quali rami scaricare e mi chiede dove voglio salvare il progetto e il repository io lo salvo nel workspace dunque dove era dove ci sono eclips workspace dove ho gli altri file potete salvarlo dove volete ma io trovo comodo salvare anche tutti i progetti che ho scaricato da git nello stesso workspace in cui metto i progetti che creo io tanto per trovare il mio stesso posto però scelgo io dove salvarlo non è un problema passo avanti ecco in questo caso lui ha in questa operazione qua si è copiato il progetto si è copiato i file adesso tenete prevedente che git non sa nulla di java quindi non sa che cosa sta copiando potrebbe essere qualunque file file della vostra tesi file delle immagini un romanzo quello che è a questo punto eclips si accorge che nei file che ha appena scaricato da git dentro c'è un progetto eclips riconosce i file di eclips e quindi dice senti ma vuoi che questa cosa qua semplicemente te la salvi sul tuo computer oppure ti creo un progetto eclips corrispondente e beh certo che voglio un progetto eclips quindi ti dico di sì e me lo salva qua come working tree quale progetto vuoi salvare questo qui va bene una serie di passaggi ma alla fine c'è sempre solo da cliccare ok la cosa importante è mettere l'indirizzo giusto nel primo passaggio del repository e poi fa tutto da solo allora a questo punto che cos'ho a questo punto dentro il mio computer questo progetto che si chiama libretto voti no non lasciate perdere i tag quando li creeremo li aggiungeremo ma per ora non serve non c'è nessun tag definito il git è molto complicato nel senso che ha 12.000 feature diverse quindi andiamo veramente per piccoli passi perché altrimenti ci perdiamo qui noi abbiamo adesso un repository locale vedete il bidoncino collegato al repository remoto nostro forcato nel nostro progetto se io vado a vedere il menu team è pieno e io posso vedere che c'è una vista repositories mi fa vedere che il libretto voti 1 che è un progetto locale è collegato a un remoto che è questo qui quindi posso vedere qui si vedete che sono due icone una verde e una rossa una per il push e l'altra per il pull è collegato a questo repository che abbiamo appena creato quindi quello sulla vostra area personale non quello su tdp2 in la 21 quindi adesso i due sono collegati e quindi possiamo cominciare a lavorarci quindi io posso farlo partire posso scriversi qualche cosa dentro nel main posso modificare qualcosa qui c'era tra l'altro un readme che era il testo dell'esercizio che faremo nell'ora successiva e se modifico qualcosa immaginiamo di creare una nuova classe java perché il testo ci dice lo leggiamo poi tra un attimo però ci dice alla fine crea un package che si chiama anzi crea un package che si chiama model e poi capiremo perché e allora io dovrò creare un nuovo package che si chiama punto model qui lavoro nuovamente col progetto e dentro questo model crea una classe che si chiama esercizio ad esempio e la creo qua questa classe nasce col punto interrogativo perché non è ancora collegata al repository locale ma vedete che questa cartella questo package ha il segno di maggiore che dice guarda che qualcosa è cambiato e infatti mi era rimasta aperta casualmente la finestra del commit che mi fa vedere che c'è questa modifica e se io voglio la voglio salvare anche sotto e quindi potrò fare commit localmente e anche il push quindi ciò che ho fatto è ricapitolando anche un po' per rispondere a Matilde ma per poi riassumere i vari passi la cosa importante è che ho fatto import quindi il clone di un progetto in Eclipse nasce dall'operazione di import di importazione import mi chiede tante cose ma la cosa importante che mi chiede è l'indirizzo del repository questo qua poi fa tutto lui devo semplicemente dire di sì e mi ritrovo sul mio computer già un progetto configurato con repository locale collegato questa finestrella qua mi fa vedere i progetti locali che hanno un repository associato la trovo se la volete vedere sotto team mostra la vista repository però di fatto non è mi fa vedere dov'è questo progetto l'interno dei repository ma non è essenziale cioè semplicemente serve se io dovessi creare un remoto in più o altro l'ho solo voluto far vedere per accertarmi che fosse effettivamente collegato al repository giusto ma una volta fatto questo quindi questa vista repository non mi interessa più di tanto io lavoro normalmente nel progetto quindi ho creato una nuova classe in questa classe scrivo dei commenti classe di prova eccetera eccetera e qui lavoro normalmente semplicemente semplicemente mentre lavoro compariranno dei simboli esterisco più eccetera il maggiore per ricordarmi guarda che attenzione che quello che stai facendo sta facendo divergere allontanare il tuo progetto rispetto a quello di base ok va bene non è un problema quando le modifiche che ho fatto mi soddisfano posso fare un commit quindi a questo punto posso prendere il progetto e andare sul commit in realtà non è successo nulla perché questa finestra in basso a destra mi era rimasta aperta da prima quindi fare commit è se la lasciate aperta qui c'è la console c'è questa parte git staging che è di fatto l'area di commit e quindi qua sotto vedrò tutte le modifiche che vengono fatte che sono state fatte commit di prova scrivo e quindi potrò fare qua come facevo prima da questo momento in avanti non è cambiato nulla posso fare tranquillamente commit in push e quindi le mie modifiche andranno salvate localmente e quindi vedete che immediatamente scompaiono gli asterischi perché le modifiche locali sono state salvate immediatamente e poi anche in remoto push mi conferma che è stato fatto il push e quindi io posso andare a vedere nel mio nel mio copio del progetto se aggiorno la pagina che ho fatto un commit di prova eccolo qua questo commit di prova che al suo interno contiene questo file esercizio.java quindi qui posso navigare le modifiche però da questo momento in avanti non ci penso più tanto lavoro normalmente dentro il mio progetto quando c'è qualcosa che funziona quindi io suggerisco proprio di andare avanti per gradi faccio un pezzettino quando funziona quello faccio un commit in cui scrivo nel messaggio ok questo funziona e poi vado avanti così avrò tutti i vari passaggi se non volete fare ogni volta push basta semplicemente che facciate commit viene salvato un repository locale con comunque il messaggio di commento e poi potete fare push una volta sola cioè quando fate push in realtà si porta dietro automaticamente tutti i commit che avete fatto nell'intervallo di tempo precedente e quindi non perdete comunque nulla se non volete fare push ogni volta il commit è un'operazione istantanea come dicevo quindi se fate tanti commit rapidamente magari li fate solo localmente e poi una sola volta fate push oppure se volete c'è anche il comando ovviamente per fare push e basta push to origin eccolo qua se avete fatto dei commit locali che poi volete mandare verso il repository remoto tutti insieme li potete fare separando il comando commit dal comando push poi ciascuno si troverà i propri modi di lavorare l'importante è ricordarsi fare push per aggiornare il remoto in questo caso probabilmente vedete up to date non c'era niente da fare era già aggiornato va bene e invece i commit li vedo localmente e qua ci sono sempre le iconcine che mi ricordano cosa modificato e che cosa no quindi al di là dell'impostazione iniziale del progetto che per i progetti in cui lavoriamo nel laboratorio richiede sempre quei due passaggi preliminari faccio fork e faccio import quindi faccio fork su github per avere il mio progetto locale poi importo in eclipse quel progetto locale poi da quel momento in avanti lavoro tranquillamente nel mio progetto col vantaggio che come vi dicevo è tutto salvato lì potete tornare indietro nel tempo vedere le versioni precedenti se fate casino e se avete bisogno di aiuto ci mandate semplicemente il link al progetto e noi possiamo vedere direttamente il vostro codice tutto non solamente magari il pezzo che dà errore per riuscire anche a aiutarvi durante i laboratori oppure durante diciamo così la settimana su telegram ok quindi abbiamo messo insieme un po' di concetti di base un po' di procedure operative da adesso in avanti diciamo così lavoreremo sempre in questa modalità e quindi dall'esercizio che facciamo nella successiva al laboratorio che faremo domani mercoledì lavoreremo sempre così quindi predisponetevi sapete che il testo dell'esercizio è su github vi fate fork ve lo importate e cominciate a lavorarci poi più avanti e poi chiudiamo l'ora diciamo così all'interno di questo progetto in questo caso c'è solo un branch che è il branch master dopo un po' aggiungerò anche un secondo branch che si chiamerà soluzione o cose di questo genere quindi le soluzioni di laboratori di esercizi ve le troverete in branch separati in rami separati all'interno dei stessi progetti per vedere questi branch dovrete nuovamente fare un'operazione di fork oppure di import per poter avere l'ultima versione del progetto oppure ve la guardate direttamente qua ok io a questo punto farei un intervallo visto che abbiamo finito la prima ora e mezza di lezione Andrea l'ho detto all'inizio della lezione c'è scritto sul sito l'intervallo è scritto su telegram ALMZ ma rimetto un avviso durante l'intervallo preparo un avviso così rimane visibile a tutti mentre ci facciamo i canonici 15 minuti di pausa ok quindi nel frattempo se non ci siete riusciti cercate di riuscire ad avere questa copia di questo progetto Libretto Voti perché ci lavoreremo nell'ora successiva come ripasso essenzialmente delle operazioni sulle liste collection e cose di questo genere le facciamo ripassiamo attraverso un esercizio su più punti per ora quindi ci interrompiamo qua e ci rivediamo alle 10 e 15 a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi